Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni Capitolo 1 La mattina del 21 di giugno 1630, verso le 4 e mezzo, una donnecciola chiamata Caterina Rosa, trovandosi per disgrazia ad una finestra ad un cavalcavia, che allora c'era sul principio di via della vetra dei cittadini, dalla parte che mette al corso di Porta Ticinese, quasi di rimpetto alle colonne di San Lorenzo, vide venire un uomo con una cappa nera e il cappello sugli occhi e una carta in mano, sopra la quale, dice Costei nella sua deposizione, metteva sulle mani che pareua che scrivesse. Le diede nell'occhio che entrando nella strada si fece appresso alla muraglia delle case, che è subito dopo voltato il cantone e che a luogo a luogo tiraua con le mani dietro al muro. Allora, soggiunge, mi viene in pensiero se a caso fosse un poco uno di quelli che, a giorni passati, andavano ongendo le muraglie. Presa da un tal sospetto, passò in un'altra stanza che guardava lungo la strada per tenere d'occhio lo sconosciuto che s'avanzava in quella e Tviddi dice che teneva toccato la detta muraglia con le mani. C'era alla finestra di una casa della strada medesima un'altra spettatrice, chiamata Ottavia Bono, la quale non si saprebbe dire se concepisse lo stesso pazzo sospetto alla prima e, da sé o solamente quando l'altra ebbe messo il campo a rumore, interrogata anch'essa, depone d'averlo veduto fin dal momento che entrò nella strada, ma non fa menzione di muri toccati nel camminare. Tviddi dice che si fermò qui in fine della muraglia del giardino della casa degli Crivelli e Tviddi che costui a Ewa una carta in mano sopra la quale misse la mano dritta che mi pare Ewa che volesse scrivere e poi Tviddi che, leuata la mano dalla carta, la fregò sopra la muraglia del detto giardino dove era un poco di bianco. Fu probabilmente per pulirsi le dita macchiate d'inchiostro, già che pare che scrivesse davvero. Infatti, nell'esame che gli fu fatto il giorno dopo, interrogato, se l'attioni che fece quella mattina ricercorno scrittura, risponde signor sì. E in quanto all'andar rasente al muro, se a una cosa simile ci fosse bisogno d'un perché, era perché pioveva, come accennò quella Caterina medesima, ma per cavarne una induzione di questa sorte. Ebbene una gran cosa, ieri, mentre costui faceva questi atti di ongere, pioeva, et bisogna mo' che avesse pigliato quel tempo piovoso, perché più persone potessero imbrattarsi di panni nell'andare in volta, per andare al coperto. Dopo quella fermata, costui tornò indietro, rifece la medesima strada, arrivò alla cantonata, ed era per risparire. Quando, per un'altra disgrazia, fu intoppato da uno che entrava nella strada e che lo salutò. Quella Caterina, che per tenere dietro all'untore, finché poteva, era tornata alla finestra di prima, domandò all'altro chi fosse quello che Aueu ha salutato. L'altro, che come depose poi lo conosceva di vista e non ne sapeva il nome, disse quel che sapeva, che era un commissario della sanità. Ed io dissi a questo tale, segue a deporre la Caterina, è che ho visto colui a fare certi atti che non mi piacciono niente. Subito poi si divulgò questo negozio. Cioè fu esse almeno principalmente che lo divulgò. Ed uscimo dalle porte, ed si vidde imbrattate le muraglie d'un certo ontume che pare grasso e che tira al giallo. Ed in particolare quelli del tradate dissero che Aueu hanno trovato tutto imbrattato li muri dell'andito della loro porta. L'altra donna depone il medesimo. Interrogata, se sa che effetto questo tale fregasse di quella mano sopra il muro, risponde dopo fu trovato onte le muraglie, particolarmente nella porta del tradate. E cose che in un romanzo sarebbero tracciate di inverisimili, ma che purtroppo l'accecamento della passione basta a spiegare, non venne in mente né l'una né all'altra che descrivendo passo per passo specialmente la prima il giro che questo tale aveva fatto nella strada, non avevano però potuto dire che fosse entrato in quell'andito. Non parve loro una gran cosa davvero che costui giacché per fare un lavoro simile aveva voluto aspettare che fosse levato il sole, non c'andasse almeno a guardingo, non desse almeno un'occhiata alle finestre, né che tornasse tranquillamente indietro per la medesima strada, come se fosse usanza dei malfattori di trattenersi più del bisogno nel luogo del delitto, né che maneggiasse impunemente una materia che doveva uccidere quelli che se ne imbrattassero i panni, né troppe altre ugualmente strane in verisimiglianze. Ma il più strano e il più atroce sia che non paressero tali neppure all'interrogante e che non ne chiedesse spiegazione nessuna o, se ne chiese, sarebbe peggio ancora il non averne fatto menzione nel processo. I vicini, a cui lo spavento fece scoprire chissà quante sudicerie, che avevano probabilmente davanti agli occhi chissà da quanto tempo, senza badarci, si misero in fretta e in furia ad abbrucciacchiarle con della paglia accesa. A Gian Giacomo Mora, barbiere che stava sulla cantonata, parve come agli altri che fossero stati unti i muri della sua casa e non sapeva all'infelice qual altro pericolo gli sovrastava e da quel commissario medesimo, ben infelice anche lui. Il racconto delle donne fu subito arricchito di nuove circostanze, o forse anche quello che fecero subito ai vicini non fu in tutto uguale a quello che fecero poi al capitano di giustizia. Il figlio di quel povero Mora, essendo interrogato più tardi, se sa o ha inteso dire in che modo il detto commissario ongesse le dette muraglie e case, risponde «Sentei che una donna di quelle che stanno sopra il portico che traversa la detta vedra, quale non so come abbi nome, disse che detto commissario ongegua con una penna, auendo un vasetto in mano. Potrebbe essere benissimo che quella Caterina avesse parlato di una penna da lei vista davvero in mano dello sconosciuto e ognuno indovina troppo facilmente qual'altra cosa potesse essere da lei battezzata per vasetto, che in una mente la quale non vedeva che unzioni, una penna doveva avere una relazione più immediata e più stretta con un vasetto che con un calamaio. Ma purtroppo in quel tumulto di chiacchiere non andò persa una circostanza vera, che l'uomo era un commissario della sanità e con questo indizio si trovò anche subito che era un Guglielmo Piazza, genero della Comar Paola, la quale doveva avere una levatrice molto nota in quei contorni, la notizia si sparse via via negli altri quartieri e ci fu anche portata da qualche d'uno che si era battuto a passar di lì nel momento del sottosopra. Uno di questi discorsi fu riferito al Senato che ordinò al Capitano di Giustizia di andare subito a prendere informazioni e di procedere secondo il caso. È stato significato al Senato che ieri mattina furono onte con ontioni mortifere, le mura e porte delle case della vedra dei cittadini, disse il Capitano di Giustizia al notaio criminale che prese con sé in quella spedizione e con queste parole già piene di una deplorabile certezza e passate senza correzione dalla bocca del popolo in quella dei magistrati, s'apre il processo. Al veder questa ferma persuasione, questa pazza paura ad un attentato chimerico, non si può far a meno di non rammentarsi ciò che accadde di simile in varie parti d'Europa, pochi anni sono nel tempo del colera. Se non che, questa volta, le persone punto punto istruite, meno qualche eccezione, non parteciparono della sciagurata credenza, anzi, la più parte fecero quel che potevano per combatterla. E non si sarebbe trovato nessun tribunale che stendesse la mano sopra imputati di quella sorte quando non fosse stato per sottrarli al furore della moltitudine. È certo un gran miglioramento, ma se fosse anche più grande, se si potesse essere certi che, in un'occasione dello stesso genere, non ci sarebbe più nessuno che sognasse attentati così. Non si dovrebbe perciò creder cessato il pericolo d'errori somiglianti nel modo se non nell'oggetto. E purtroppo l'uomo può ingannarsi e ingannarsi terribilmente, con molto minore stravaganza. Quel sospetto e quella esasperazione medesima nascono ugualmente all'occasione di mali che possono essere benissimo e sono in effetto qualche volta cagionati da malizia umana. E il sospetto e l'esasperazione quando siano frenati dalla ragione e dalla carità, hanno la trista virtù di far prendere per colpevoli degli sventurati sui più vani indizi e sulle più avventate affermazioni. Per citarne un esempio anch'esso non lontano, anteriore di poco al colera, quando gli incendi erano divenuti così frequenti nella Normandia, cosa ci voleva perché un uomo ne fosse subito creduto autore da una moltitudine? l'essere il primo che trovavano lì o nelle vicinanze, l'essere sconosciuto e non dar di sé un conto soddisfacente, cosa doppiamente difficile quando chi risponde è spaventato e furiosi quelli che interrogano. L'essere indicato da una donna che poteva essere una Caterina Rosa, da un ragazzo che preso in sospetto esso medesimo per uno strumento della malvagità altrui e messo alle strette di dire chi l'avesse mandato a dar fuoco, diceva un nome a caso. Felici quei giurati davanti a cui tali imputati comparvero che più di una volta la moltitudine eseguì da sé la sua propria sentenza. Felici quei giurati se entrarono nella loro sala ben persuasi che non sapevano ancora nulla se non rimase loro nella mente alcun rimbombo di quel rumore di fuori, se pensarono non che essi erano il paese come si dice spesso di un traslato di quelli che fanno perdere di vista il carattere proprio e essenziale della cosa con un traslato sinistro e crudele nei casi in cui il paese si sia già formato un giudizio senza averne i mezzi ma che erano uomini esclusivamente investiti della sacra necessaria terribile autorità di decidere se altri uomini siano colpevoli o innocenti. La persona che era stata indicata al capitano di giustizia per averne informazioni non poteva dire non poteva dire altro che d'aver visto il giorno prima passando per via della vetra a bruciacchiare le muraglie e sentito dire che erano state unte quella mattina da un genero della Comar Paola. Il capitano di giustizia e il notaio si portarono a quella strada e videro infatti i muri affumicati e uno, quello del barbiere Mora imbiancato di fresco. E anche a loro fu detto da diversi che si sono trovati ivi che ciò era stato fatto per averli veduti unti come anco del detto signor capitano et da me notaro scrive costui si sono visti nei luoghi abbrugiati alcuni segni di materia untuosa tirante al giallo sparsavi come con le deta. Quale riconoscimento di un corpo di delitto? Fu esaminata una donna di quella casa dei tradati la quale disse che avevan trovati i muri dell'andito imbrattati di una certa cosa gialla et in grande quantità. Furono esaminate le due donne delle quali abbiamo riferito alla deposizione qualche altra persona che non aggiunse nulla per ciò che riguardava il fatto e tra gli altri l'uomo che aveva salutato il commissario. Interrogato di più se passando lui per la vedra dei cittadini vide le muraglie imbrattate risponde non li feci fantasia perché fino allora non si era detto cosa alcuna. Era già stato dato l'ordine ad arrestare il piazza e ci volle poco. Lo stesso giorno 22 riferisce Fante della compagnia del baricello di campagna al prefatto signor capitano il quale ancora era in carrozza che andava verso casa sua siccome passando dalla casa del signor senatore Monti presidente della sanità ha ritrovato a uante a quella porta il suddetto Guglielmo commissario et auerlo in esecuzione dell'ordine datogli condotto in prigione. Per rispiegare come la sicurezza dello sventurato non diminuisse punto la preoccupazione dei giudici non basta certo l'ignoranza dei tempi. Avevano per un indizio di reità la fuga dell'imputato che di lì non fossero condotti a intendere che il non fuggire e un tal non fuggire doveva essere indizio al contrario ma sarebbe ridicolo il dimostrare che uomini potevano vedere cose che l'uomo non può non vedere e può bensì non volerci badare. Fu subito visitata la casa del piazza frugato per tutto in omnibus arcis capsis scrinnis cancellis sublectis per vederse c'eran vasi d'unzioni o danari e non si trovò nulla né il penitus compertum fuit né anche questo non gli giovò a punto come purtroppo si vede dal primo esame che gli fu fatto il giorno medesimo dal capitano di giustizia con l'assistenza di un auditore probabilmente quello del tribunale della sanità è interrogato sulla sua professione sulle sue operazioni abituali sul giro che fece il giorno prima sul vestito che aveva finalmente gli si domanda se sa che siano stati trovati alcuni imbrattamenti nelle muraglie delle case di questa città particolarmente di porta ticinese risponde mi non lo so perché non mi fermo niente in porta ticinese gli si replica che questo non è verissimile si vuol dimostrargli che lo doveva sapere a quattro ripetute domande risponde quattro volte il medesimo in altri termini si passa ad altro ma non con altro fine che vedremo poi per qual crudele malizia si insistesse su questa pretesa inverissimiglianza e si andasse a caccia di qualche altra tra i fatti della giornata antecedente dei quali aveva parlato il piazza c'era ad essersi trovato con i deputati di una parrocchia erano gentiluomini eletti in ciascheduna di queste dal tribunale della sanità per invigilare girando per la città sull'esecuzione dei suoi ordini gli fu domandato chi erano quelli con cui si era trovato rispose che li conosceva solamente di vista e non di nome e anche qui gli fu detto non è verissimile terribile parola per intender l'importanza della quale sono necessarie alcune osservazioni generali che purtroppo non potranno essere brevissime sulla pratica dei quei tempi nei giudizi criminali grazie a tutti